oggi non mi viene proprio niente in mente da raccontarvi di solito io ho sempre una barzelletta pronta per tutti quanti ehi ma lì giù c'è c'è uno che sta piangendo mi sembra pure di conoscerlo si chiama giovanni è morto qualche giorno fa d'incidente ma andiamo a vedere giovanni giovanni ehi amico ma perché stai piangendo sto piangendo perché perché mi hanno seppelito e non mi hanno messo i pantaloni e che problema c'è tanto qui siamo tutti morti sì il problema è che però non mi sono fatto la ceretta grazie